Uno degli eventi di maggiore spicco dell'estate umbra è quello che si rinnova a Sant'Egidio, piccolo borgo del comune di Perugia. Protagonista della festa è la torta al testo, chiamata in altre parti della regione anche ciaccia o pizza. Si tratta di un tipico pane basso e poco lievitato, cotto, come vuole la tradizione locale, su una pietra circolare riscaldata sul fuoco, il testo appunto, e ricoperto completamente da uno spesso strato di cenere formatosi a diretto contatto con le braccia ardenti. Questa specialità può vantare origini antiche. Secondo lo storico ornero fillanti discende dalla mefa, una focaccia di farina, di farro o di orzo, e acqua cotta su una lastra di pietra e farcita con grasso di maiale, in uso presso gli antichi Umbri. Senza dubbio, nel corso dei secoli, ha costituito un elemento centrale dell'alimentazione della civiltà contadina, sostituendo o integrando il pane riservato alle occasioni di festa. Per gustare l'autentica torta al testo, cotta sotto la cenere, ci richiamo a Sant'Egidio. Camminando verso gli stand della Sagra, notiamo da lontano un'alta canna fumaria che si erge sopra una fornace, destinata a produrre braccia e cenere in quantità per tutta la durata della manifestazione. Oltrepassiamo quindi l'ingresso dell'area Griglie, dove una ventina di uomini e donne di ogni età lavorano a turni intorno a un enorme bracere fumante. Siamo in pieno agosto e le giornate sono particolarmente affose, così non possiamo che guardare con ammirazione alla forza di volontà e alla dedizione di queste persone. Che quasi fossero atleti alle prese con una maratona, trascorrono la serata cuocendo le torte, a stretto contatto con le braci. La festa è molto sentita dalla comunità e ce ne rendiamo conto nell'incontrare volontari che hanno preso ferie dal lavoro solo per potersi dedicare all'evento più importante dell'estate. Nelle cucine riusciamo a seguire le fasi della preparazione della torta e carpire qualche segreto. L'impasto è realizzato con pochi e semplici ingredienti, solo farina di grano tenero, acqua, sale e una punta di bicarbonato, in modo da far alzare la torta di quel tanto che basta per tagliarla longitudinalmente e farcirla. Viene quindi steso con un'imponente pressa azionata a mano e cotto per pochi minuti sotto la cenere, una pratica che conferisce al prodotto una particolare croccantezza. A questo punto la torta è pronta e va liberata della cenere in eccesso, prima di essere tagliata in 11 spicchi, aperta a metà e farcita con tante combinazioni di ingredienti locali, mediante un'impeccabile catena di montaggio. Tra i ripieni più apprezzati ci sono l'erba campagnola, anche in accompagnamento alla salsiccia, e il barbozzo, un salume umbro molto simile al guanciale.